e benvenuti ragazzi io sono cd e oggi vi do il benvenuto sul mio canale youtube primo video del 2022 quindi vi auguro già un piccolo nuovo come già vi auguro allo sfondo del mio cellulare oggi ragazzi come potete bene dal titolo farò un anno review non farò vedere clip perché io clip non le so ancora perché uno no che lì se riesco poi a farlo magari in futuro quando perché sono ancora minorenne deve ancora iniziare la scuola vado ancora a scuola quindi quando avrà fatto la scuola e quando farò il video certamente si sa proprio tale dei programmi nuovi da utilizzare di soli certamente con questo non è un infotime ma è un anno review in cui fuggire tutto quello che ho fatto in un anno su youtube studio oggi è sabato 1 gennaio 22 domenica 2 vi volevo ringraziare tantissimo per 42 iscritti e i video sono in totale che adesso lo cerco con voi sono anche i cd se non vedi questo qua vabbè ho ben 353 video quindi già ringrazio per tutte le visual perché che su youtube non lo so comunque canali e poi sono su tutte le playlist potete vederle voi i video potete vederli voi la home potete vederla voi con informazioni la descrizione e portano i contenuti quali tutti i giorni a orario variabile ultime informazioni c'è htp il mio canale youtube ho creato mica youtube il 9 giugno del 2017 però come portare youtube due anni fa ho avuto 1962 visual io penso l'anno fa perché cg7 scuote non c'è il video un anno fa un anno fa ragazzo ho portato via il ho portato qua youtube tanto forte non penso infatti un anno fa diceva diciamo due anni per essere sicuri sicuri per essere approssimativi gli ultimi 28 giorni ho avuto la faccetta in giù ragazzi io mi rendo conto ma sono stato ufficio perché sono a 42 iscritti comunque 107 visual sono sceso comunque tempo di visualizzazioni in ore ok ho avuto oggi ho ricevuto 117 visualizzazioni negli ultimi 28 giorni 3 meno del solito il tempo di visualizzazioni in ore sono 0,8 quindi prima erano 120 qua erano 0,9 iscritti 0 meno 100 per cento vabbè sono felice comunque sono andando su commenti nessun commenti aspetta ho un 2 qua ok per vista ecco ragazzi vi dico tutte le cose che ho fatto quest'anno nel 2022 full dudes so che vi è piaciuto tantissimo tantissimo e vi ringrazio tantissimo un suo video però fatto comunque vi ringrazio tantissimo per me per 4 like e 5 visualizzazioni poi in slider io l'ho pubblicato anche quest'anno con ancora mobizen penso quest'anno eh no 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 asfalt9 mi ricordo quest'anno ha portato verso era estate ok vi ringrazio tantissimo per 1 like e 3 like quindi la media è di 3 più 1 fa 4 4 più 5 5 2 fa 2 4 la media è di 2,5 like mentre 6 più 4 fa 10 più 5 2 4 6 8 10 12 14 7,5 visualizzazioni asfalt9 vi ringrazio tantissimo among us non l'ho portato quest'anno se non sbaglio katydestruction le great pot le great pot vabbè comunque vi ringrazio tantissimo fu mi ringrazio tantissimo moto gp mi ricordo anche con quell'incidente di moto di due moto fatto casualmente comunque vi ringrazio tantissimo per la media di 2 like e per la media di di 4 visualizzazioni grazie mille grazie mille nascarit mamma 55 video mamma mia vi ringrazio tantissimo per la media di 55 visual più i shorts tipo eh tipo cioè non voglio far vedere proprio tipo i crash il crash crash che botto mamma mia vi ringrazio tantissimo per la media di non so quanti like la media di 5 like non lo so 5 no la media di diciamo che uno tre diciamo la media di un like perché sono più sono più un like che ok la media di un like che la media di di due visual non lo so dico perché so ho detto sono due visual perché ho visto prima dei video però tipo due visual sono la media live vi ringrazio tantissimo per l'ultima live no l'ultima live è stata questa qua in basso comunque vi ringrazio tantissimo con l'ultima live estiva comunque finita con momenti portato f1 21 con la media di di like adesso circa la media di 3 di 3 like e la media di 5 visualizzazioni f1 clash ve lo riporterò all'estate non preoccupatevi e essendo il primo è pagato ok a prenderci qua quattro forse 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 vi ringrazio tantissimo a settembre ricordo poi f1 interessate l'avete visto in 12 bene per parte però è arrivata pro stars mod vi è piaciuto tantissimo 2 ottobre 8 ottobre l'ultima secondo 48 visual il primo 73 visual grazie a tantissimo la media sarebbe tipo di non lo so comunque la media è di un like e mezzo Stardew Valley un video solo comunque vi vengono tantissimo per averlo sostenuto anche con pochi visual ma vi vengono tantissimo F1 20 34 video la media è di due visualizzazioni tipo la media è di un like poi Ace of Horror solo uno con quattro visualizzazioni non so commentare F1 Lights siamo a cosa alla fine F1 Lights vi ricordo tantissimo che vi lo riporterò quando comincia la stagione bellissimo ragazzi Rocket League SizeWipe grazie mille lo riporterò quando ricominciano le sfide di LamaRama InfoTime vi ringrazio tantissimo perché mi sostenete anche con pochi visual tantissimo il più alto InfoTime è stato le 6 visualizzazioni Special 94 visual vi ringrazio tantissimo Fortnite questo non ho portato forse sì uno o due video ho portato un video non vi ricordo comunque F1 21 ve lo ricordo che ve l'ho portato le news tutto i trailer la serie mamma mia grazie mille e poi come ultimo music e come ultimo Animal Crossing con la media di Ben una visualizzazione e con la media di Ben una like vi ricordo che oggi ho portato Animal Crossing hashtag 3 Animal Crossing hashtag 4 vi avete visti comunque consiglio di mettere like e di scrivere il canale ragazzi io sono felicissimo di aver portato questo di rica cortissima non so farla bene comunque ragazzi vi ringrazio tantissimo di avermi sostenuto in questo anno 2021 e spero che continuate così anche nell'anno 2022 comincerò sicuramente domani vi caricherò domani domenica 2 gennaio alle ore se riesco proprio sì alle ore 14 circa se ne va vi ho caricato alle 18 circa comunque domani il video è la variabile come si dice nella descrizione del carico youtube ve lo porterò sicuramente questo video qua che non so quanto sarà durato penso una sette minuti non so magari anche 11 minuti non so penso 11 minuti comunque vi ringrazio tantissimo 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 il primo video è 2022 domani vedete questo video qua a orario variabile a orario punti domanda e poi avete minecraft domenica lunedì lunedì 4 lunedì 3 4 lunedì 3 gennaio vedete il minecraft vedete tutto spoiler minecraft lo riporto sul canale non ve ne pentirete guardatelo perché non ve ne pentirete non ve ne pentirete ragazzi poi adesso vi saluto spero che vi vi è piaciuto mi raccomando lasciate like condivisione il canale attivate a campina seguitevi su instagram chioccio la cd 17 cd cd os ai ragazzi un buon baccione per il 2 ago a tutti voi e ci vediamo al prossimo video sempre qui su youtube ciao ragazzi ciao